Salve a tutti, siamo su Vox Italia TV, io sono Antonello Cresti e questa è la rubrica La Legge dell'Ottava. Oggi abbiamo l'occasione di un incontro speciale con Yuri Kamisaska. Yuri Kamisaska, musicista, autore di canzoni attraversa la storia della musica italiana oramai dagli anni 70 e autore proprio di diversi album che hanno avuto riscontri in tutto il mondo ed è autore di canzoni anche per personaggi come Franco Battiato, Alice, Milva, Giunirusso. Accanto a questa sua carriera artistica c'è quella esistenziale, diciamo la parabola esistenziale di un cercatore spirituale che lo ha portato per circa dieci anni nelle comunità monastiche del nostro paese e in generale lo ha portato a esplorare il suo rapporto con l'essenza, il suo rapporto col silenzio. Ora lo raggiungiamo nella sua abitazione, il suo aeremo sull'Etna per fargli alcune domande a seguito della pubblicazione di un cd, l'ultimo appunto uscito di Yuri Kamisaska che si chiama Laudes, ecco lo facciamo vedere un attimo, è uscito per le edizioni Paoline qualche settimana fa. Salve Yuri, buonasera. Ciao Antone. Allora alcune domande che ti volevo fare, dicevo di questa sorta di compresenza di due dimensioni presenti da sempre nella sua vita che sono la musica e il silenzio. Proviamo a prenderla da questa angolazione. Com'è che la musica, o almeno certa musica, può aiutarci a condurci a questa dimensione di silenzio? Vanno specificate alcune cose, no? Perché c'è silenzio e silenzio. C'è il silenzio della valle, c'è il silenzio dei monti, c'è il silenzio di due amanti, c'è il silenzio anche di due persone che non si possono sopportare. Cioè ci sono diversi livelli di silenzio, diverse profondità, diversi sapori. Ora quello che a noi interessa ovviamente è il silenzio del mistico, il silenzio che è la base della vita. Ricordiamoci che il suono è un fatto che tu crei, invece il silenzio non lo puoi creare. Puoi arrivarci attraverso la privazione di qualsiasi sovrastruttura. Quindi come la musica può condurti a quel tipo di silenzio? Anche qui bisogna distinguere la musica. C'è musica e musica. come si chiama quel gruppo? Cannibal Corpse? Cannibal Corpse? Come si pronuncia? Non lo so. Cannibal Corpse, sì. Cannibal Corpse. Ecco, uno che ascolta una musica di quel tipo non può arrivare al silenzio del mistico, assolutamente, perché ci sono diversi tipi di musica che risvegliano in noi particolari stati d'animo e ci inducono anche a certi comportamenti e anche a certe rivoluzioni mentali. C'è una musica che proprio ti incita anche alla violenza. Molte musiche ti scatenano questo istinto di bestialità che hai dentro. Ci sono invece musiche liturgiche che ti portano tutte da un'altra parte, così come c'è anche la musica folk che ha un altro tipo di colorazione e di conseguenza un altro tipo di trasporto che può essere di divertimento. Ecco, bisogna distinguere quando si parla di musica come del resto quando si parla di poesia o di letteratura. C'è letteratura e letteratura. Dante è diverso da uno che scrive romanzi gialli, per dire. Ora, perché ho fatto questa premessa? Perché è un discorso di educazione, è un discorso di disciplina. Non è mica vero che tutti quanti sentono la stessa musica quando ascoltano un brano, perché per qualcuno può essere una musica irritante. C'è magari uno che impazzisce per l'hard rock, se lo puoi sentire ad un'eremita potrebbe sentire degli urti. Quindi noi sentiamo diversamente anche a seconda della direzione che prendiamo nella vita e anche dal livello di evoluzione che abbiamo raggiunto. Un intenditore artistico davanti alla gioconda potrebbe rimanere folgorato. Uno che non ne capisce niente potrebbe così, insomma, rimanere completamente indifferente e alla stessa maniera anche davanti a particolari musiche. Non so, uno, un ricercatore musicale, uno che si interessa al suono, che si interessa alla musica contemporanea, quindi vive la musica come fatto intellettuale più che altro, no? Perché ad esempio la musica di Stokhausen, di Schoenberg, è musica intellettuale, cioè non è che, non possiamo dire che ti trasporti verso mondi, anche se bisogna stare attenti, perché onestamente devo dire che ci sono delle cose di Stokhausen che ho trovato molto forti in questo senso. Quindi, ripeto, è un discorso di crescita, di crescita interiore. La musica ti conduce dove è la fonte della sua ispirazione. Siccome viene creata dalla nostra mente, la musica sei tu che la fai, la mente poi traduce quelle che sono il sentire, traduce il sentimento. Però è un atto mentale il fatto di costruire della musica. Quindi, se la mente non è a posto, se il cuore non è in pace, tu non puoi fare una musica che ti porta il silenzio. Cioè, ti porta al silenzio quella musica che nasce dal silenzio. Quindi, da uno stato meditativo, fai inevitabilmente delle cose che poi ti conducono a quella fonte. Perché, insomma, questa musica è un traino, è una frequenza sulla quale tu ti adagi e vai nella direzione della sua fonte. Ecco. Stai effettivamente conducendo alla seconda domanda. C'è una forma musicale alla quale tu ti sei dedicato per tanti anni. Anche nell'ultimo album, Laudes, ci sono degli esempi in questo senso. E mi riferisco al canto gregoriano, che è questa forma musicale legata alla liturgia cristiana, antichissima. Una di quelle forme, oserei dire, inattuali, nel senso che non hanno un tempo, possono essere sempre lontane a noi e sempre vicine a noi. È una forma che, per quanto mi riguarda, ha una capacità ascensionale nei confronti dell'ascoltatore. Cioè, quella di elevare lo spirito, le sensazioni, i sentimenti di chi ascolta. Ora, in un momento anche turbolento, come questo, anche di preoccupazioni, di ansie, l'ascolto di una forma come il canto gregoriano può anche essere terapeutica, da un certo punto di vista. Ecco, cosa puoi dire dalla tua prospettiva personale, sia di interprete che di ascoltatore del canto gregoriano? Il canto gregoriano nasce dalla preghiera. Siccome prima parlavamo del fatto che la musica ti porta alla fonte da cui nasce, se tu ti abbandoni al canto gregoriano, arrivi a Prodi in una zona che è la zona della quiete, che è la zona del silenzio. Ovviamente è straordinario perché intanto è una musica senza tempo, quella del canto gregoriano, che non è legata, sì, forse puoi andare al Medioevo, però viene trasceso in questo senso. È una musica che va oltre, va oltre lo spazio, va oltre le dimensioni terrene. Va considerato il fatto che tutti i compositori di questi canti straordinari erano religiosi, erano persone dedicate alla meditazione, al silenzio, alla preghiera. E poi c'è, diciamo, questo fatto che è misterioso della musica, perché la musica ha in sé un mistero molto grande, sul quale, sul quale, insomma, è molto difficile anche dare delle risposte. Del canto gregoriano posso dire che chi lo canta viene automaticamente risucchiato, come in una specie di atmosfera che ti trasporta e ti eleva. Questo sicuramente, te lo dico per esperienza, no? Chi ascolta, ovviamente, è condizionato sia dal canto, ma anche dal modo di cantarlo, no? Cioè, c'è tutta una disciplina, non è facile da cantare il canto gregoriano. E la risonanza è l'equivalente anche del tuo stato interiore, di come tu lo canti. Cioè, se tu lo canti e ti lasci andare in questo canto, automaticamente lo trasporti all'esterno. Se lo canti così non arriva niente, ecco. La stessa cosa, però, non è solo appartenente al canto gregoriano, del quale io sono un grande appassionato. L'ho scoperto stando in monastero, al canto gregoriano. Prima non lo conoscevo. Però la stessa cosa la fanno anche i raga, i raga indiani. Queste nennie mantriche, anche questi virtuosismi vocali. Cioè, gli indiani sono di un livello pauroso a livello tecnico. Però ci sono anche, ad esempio, i canti degli ortodossi. Cioè, se tu vai al Monte Athos, chiaramente hanno molte cose in comune con il canto gregoriano. Però è un altro tipo di espressione. Però questo fatto che quando una musica nasce dal cuore, come si presuppone che sia una musica fatta per la preghiera, questa ha un potere di contagio e di elevazione anche verso chi l'ascolta. Dall'altra parte, perché ora noi ci troviamo in una fase storica, diciamo, di grande spinta, purtroppo, verso valori o meglio disvalori, che sono ben lontani dalla realtà che noi stiamo cercando di illustrare, c'è una musica di comunicazione senza nulla volere eccepire nei confronti del concetto di comunicazione, che purtroppo sembra disinteressarsi completamente di questo genere di tematiche, di questo genere di ripercussioni nei confronti dell'ascoltatore. Da persona curiosa quale sei, ne abbiamo parlato in altri casi, in altre situazioni, quando ascolti per esempio alla radio ciò che passa al convento, come si suol dire, quali sono le espressioni che ti sembrano invece meno terapeutiche, quindi che in qualche maniera operino una sorta di regressione su chi ascolta. Senza fare nomi e cognomi, ovviamente. Sì, no, guarda, intanto diciamo che siccome sono stato anch'io un ragazzo che amava soprattutto entrare nel campo della musica, credeva di realizzare chissà che cosa, capisco i giovani che insomma il loro obiettivo è quello di farsi sentire, quello di farsi conoscere questo mito dell'essere famosi, di essere qualcuno che è tutta tutta un'illusione, no? Ma io questo genere di musica la sento quando vado nei supermercati a fare la spesa e il più delle volte non vedo l'ora di uscire perché non mi prende, cioè è una cosa che non ha nessuna risonanza su di me, anche se capisco che ci sono dei talenti, ci sono dei ragazzi che cantano molto ma molto bene, devono secondo me crescere proprio sul piano umano, insomma è inutile continuare a litigare, c'è poi l'uso di un linguaggio così scurrile che proprio mi dà fastidio a volte, non è che io sia contrario alle parolacce, ma vorrei dire una cosa, è molto più facile scrivere in negativo che non scrivere in positivo, è molto più facile raccontare i difetti di una persona che non i suoi pregi, quindi ecco, personalmente non so, mi sentirei anche di dare un consiglio, uno è libero di fare quello che vuole intanto, però ecco cercare di dire delle cose positive, continuare a condannare, insomma la vita è anche una cosa meravigliosa che va scoperta, ora queste musiche, queste canzoni, alcune sono interessanti, ci sono artisti molto bravi che cantano molto bene, però sinceramente non sento quel trasporto verso un'altra dimensione, sento un trasporto sempre più nel buio della nostra esistenza, della nostra società, ecco bisognerebbe uscirne un po' fuori, poi insomma ognuno deve fare il proprio percorso, io amavo i Black Sabbath per dirti, per carità, cioè sono forti, alla mia epoca li sentivo come un qualche cosa di potente, però ero anch'io immerso in quel trend abbastanza tenebroso all'epoca, quindi non ci facevo caso a certe ripercussioni che potevano avere su di me, certi linguaggi anche, perché non è soltanto una questione di sonorità, è che il nostro inconscio legge le persone, quindi i simboli e a volte bisogna stare in guardia con questi simboli anche negativi che si lanciano, perché poi va a finire che vivi delle esperienze poco belle, poco sane. Io ho raccontato una volta che mi sono fermato in un autogrill per prendere un caffè, c'era uno scaffale con su dei cd, ho visto un cd della mia epoca, non voglio fare il nome del gruppo, mi ha incuriosito, l'ho pencherato, alla sera l'ho ascoltato tutto e l'ho anche rivissuto, cioè mi ha riportato negli anni della mia giovinezza. Però ragazzi, durante la notte c'erano delle presenze nella mia stanza, delle presenze inquietanti, ho fatto i miei rituali, il giorno dopo ho buttato via il cd e non ho più voluto sapere di quella storia. Ecco, questo per dire, certe musiche richiamano anche certe forze oscure, anche se non ce ne rendiamo conto. Magari queste oscurità vengono espresse poi nella vita quotidiana attraverso una insoddisfazione di vivere, o anche attraverso una aggressività verso gli altri. Però bisogna stare attenti con la musica, perché non è soltanto quello che sentiamo noi con le nostre orecchie, ma è anche quello che il nostro inconscio recepisce, legge, ed è al di là della razionalità, al di là della ragione. Quindi non so se io ho risposto alla tua domanda, no? Ci sono, questo che voglio dire, ci sono molti giovani in gamba, ci sono molti giovani bravi, sento che hanno talento, però mi piacerebbe che loro approfondissero un po' più in loro stessi quella dimensione che è il senza tempo, ecco. Il senza tempo che è dentro di noi, invece di rimanere sempre impelagati nelle diatribe del sociale. Io credo, tornando al tuo ultimo CD, Laudes, che naturalmente contiene tantissima costruzione di senso, c'è un brano in particolare che mi sembra interessante perché chiude un po' anche questa riflessione che tu stavi facendo in questo momento, che è il brano L'impermanenza. Personalmente mi ha fatto venire in mente un autore che andava in voga soprattutto negli anni 70, che era Alan Watts, che al concetto di impermanenza si è dedicato spesso nei suoi scritti, lui era uno studioso dello zen in particolare, e quindi volevo sapere se ci volevi un po' spiegare questo testo, poi naturalmente a tutti gli ascoltatori il compito di andarsi a ascoltare i CD e questa canzone in particolare. L'impermanenza è un concetto orientale, ma non è detto che sia solamente orientale, l'impermanenza intanto è una modalità della struttura di questa esistenza, perché tutto è impermanente, se non ci fosse l'impermanenza non potrebbe nascere un fiore, cioè sarebbe tutto statico, se non ci fosse l'impermanenza, una bella riflessione di Thich Nhat Hanh, lui dice che non ci sarebbe la speranza, quando tu vuoi migliorare nella vita è grazie all'impermanenza che puoi migliorare. Quindi è un concetto di base della filosofia orientale, di cui Alan Watts, che è un grande autore che io amo tuttora, mi ha parlato diffusamente. Ho dato il titolo l'impermanenza perché è la base di questa esistenza, c'è il silenzio e sul silenzio si svolge l'impermanenza dell'esistere. Tutto nasce, tutto ha una maturità e tutto termina. Questo in tutte le cose, anche nei sentimenti, anche nei pensieri, è tutto uno scorrere, è tutto un fluire di questa vita, non c'è niente di statico. Bello è il detto sempre orientale, perché gli orientali hanno qualche cosa che mi affascina, dicono l'unica cosa che non cambia nella vita è il cambiamento. Solo il cambiamento non cambia, il resto cambia sempre. Quindi io mi sono basato su questo principio nel fare questa canzone, per parlare però anche di un'altra cosa. Cioè la frase chiave del brano è tutto quello che fai ti ritorna. Nell'impermanenza tutto quello che fai ti ritorna. Quindi non è soltanto il fatto che la vita sia un fenomeno impermanente, ma è che in questa impermanenza noi siamo chiamati anche ad agire in una certa maniera, perché ogni nostra azione è un boomerang. Tu raccogli quello che semi, che è anche un detto popolare di livello planetario, è questo il senso. Se semini amore, raccogli amore. Se semini odio, raccogli odio. Ce ne sono tanti di proverbi in questo senso. Però mi sono basato sul concetto di impermanenza per mandare questo messaggio, che se tu ti vuoi bene, devi fare del bene. Non per una questione egoistica, faccio del bene perché poi il bene mi ritorna. No, perché questo è un po' come la legge morale di Kant, no? Cioè tu lo devi fare perché è così. Ecco, questo è il senso del brano. Così, insomma. Il silenzio ti porterà sulle alte cendere. Adesso non me lo ricordo. Sinceramente... Tra l'altro c'è in qualche maniera un messaggio che ricorda quella che è stata la chiusura di tutta la parabola bitolziana che si chiude appunto con la frase And in the end, the love you make is equal to the love you take. Alla fine l'amore che tu dai è uguale all'amore che ricevi. Quindi questo era diciamo in sintonia. Noi ringraziamo... E vi sarà dato, no? Date e vi sarà... No, chiedete e vi sarà dato. Cioè, però dai e ti sarà dato. Cioè la vita è un dare. Cioè a partire dall'assoluto che si dà incondizionatamente anche l'uomo dovrebbe dare incondizionatamente perché così facendo ti allinei alle leggi universali e avrai una vita serena. Io ricordo allora ancora una volta il CD di Yuri Kamisaska, Laudes, che è uscito alcune settimane fa per le edizioni Pauline. Ci sono dodici brani inclusi, tra cui una reinterpretazione di quello che forse è la composizione più nota di Yuri, che è Nomadi, cantata negli anni da Franco Battiato, da Juni Russo, da Alice, tra gli altri. E ringrazio tantissimo Yuri per questa breve chiacchierata a dimostrazione che di musica si può parlare anche a un livello un po' più ampio, un po' più, diciamo, rimandando a sfere un po' più alte rispetto a quanto si fa solitamente. Grazie mille Yuri e un grande saluto. Grazie mille